La regina delle nevi C'era una volta una bella fata che le persone chiamavano la regina delle nevi perché viveva sulla più alta e solitaria cima delle Alpi. Alcuni montanari e pastori salivano sulle vette per ammirarla, ma una volta vista, si innamoravano subito di lei. Ogni uomo avrebbe voluto sposarla, ma il destino aveva deciso che nessun mortale avrebbe mai sposato la regina delle nevi. Ma nonostante ciò, molte anime coraggiose facevano del loro meglio per avvicinarsi a lei, sperando sempre di convincerla. Ad ogni pretendente era permesso entrare nel grande palazzo del ghiaccio con il tetto di cristallo, dove la regina delle nevi aveva il suo trono, ma dopo un secondo che dichiarava il suo amore e chiedeva la sua mano, migliaia di folletti apparivano per prenderlo e portarlo lontano, molto lontano. Senza la minima emozione, la regina delle nevi guardava la scena, con il suo cuore di ghiaccio incapace di provare alcuna compassione verso chiunque, la leggenda del palazzo di cristallo e della bellissima regina delle nevi senza cuore si diffuse fino alla valle alpina più lontana. Il racconto arrivò alle orecchie di un cacciatore e, affascinato dal racconto, decise di esporsi e tentare la fortuna. Lasciando la sua valle, viaggiò per giorni e giorni, salando le pareti di montagna piene di neve, scalando vette bloccate dal ghiaccio e sfidando il vento freddo pungente che soffiava attraverso le gole alpine. Più di una volta sentì che tutto era perduto, ma il pensiero della bella regina delle nevi gli dava forza e continuava ad andare avanti. Finalmente, dopo molti giorni di arrampicata, vide che le alte guglie trasparenti del palazzo del ghiaccio brillavano al sole davanti a lui. Raccogliendo tutto il suo coraggio, il giovane entrò nella sala del trono, dove la regina delle nevi sedeva. Fu così colpito dalla sua bellezza che non poté pronunciare una parola. Timido e riservato, non osava parlare. Quindi si inginocchiò in ammirazione davanti alla regina per ore e ore, senza aprire bocca. La regina lo guardò in silenzio e, visto che lui non chiedeva la sua mano, i folletti non potevano venire a prenderlo. I giorni passavano e il cacciatore rimase nel palazzo ammirando la regina delle nevi, senza dire una parola. Poi, con sua grande sorpresa, la regina delle nevi si rese conto che si stava molto affezionando a questo cacciatore, molto più giovane e più bello di altri suoi pretendenti, ma non aveva il coraggio di ammetterlo, nemmeno a se stessa, che avrebbe voluto, in realtà, sposare il giovane. Nel frattempo, i folletti continuavano a vegliare sulla loro padrona. Prima furono stupiti, poi divennero sempre più sconvolti, perché, giustamente, temevano che la loro regina potesse essere sul punto di infrangere la legge e sfidare il destino. Vedendo che la regina era lenta nel dare l'ordine di sbarazzarsi del suo pretendente, i folletti decisero di prendere la situazione in mano. Una sera, all'imbrunire, scivolarono fuori dalle fessure della roccia, si raggrupparono intorno al giovane cacciatore, lo afferrarono con i loro artigli e lo portarono via. La regina delle nevi poté solo guardare tutta la scena dalla finestra, dato che non c'era nulla che potesse fare per fermarli. Sentì il cuore di ghiaccio sciogliersi e una lacrima scese dal suo occhio, la prima che avesse mai versato. La lacrima della regina delle nevi cadde su una pietra, che si trasformò in un piccolo fiore d'argento, a forma di stella. Questa era la prima stella alpina, il fiore che cresce solo sulle più alte cime, sulle alpi più inaccessibili, sui bordi di precipizi e burroni. E poi la bella e glaciale fata divenne improvvisamente una donna, una donna capace di amore e di emozioni, e decise di lasciare il suo palazzo e andare a cercare il suo amato. Si narra che i due effettivamente si incontrarono di nuovo e vissero insieme molto felici. Fine